Purtroppo ti devo dire una roba un po' brutta Ok Mi hanno detto che in realtà tu sei uno smart Ciao Paolo Ciao Come ti chiami? Gabriel Non più Quanti anni hai? 25 E di dove sei? Di Brindisi, Puglia Per cosa ti segnavo qua? Allora, per la giungla Dico giungla perché comunque a prescindere sto spammando n'Italy ultimamente Ah, ok Anche perché n'Italy meccanicamente è un campione difficilissimo, lo sai? Certo, sì E infatti all'inizio giocandola ho fatto tanto difficoltà nel compiare il Jungle Path Ecco Qui c'è Atrox Qualche miss della spia L'importante sono quelle che connettono Devo dire che questo dovrino un po' mi ha messo un po' anzi Se lo ricordavi meglio Eccola, è arrivata King Eccolo Dai Di pochissimo Eh sì Allora, Gabriel Sì Allora, Mattia Ho 15 anni 15 anni? E di dove sei? Sono di Vicenza, in Veneto Ah, quindi i mangigatti Ah, 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 ah Sa che lo sei, King Sono Gold 4 Eeeh Ho tre clip da mid e tre da D-Carry Però le mostro quelle da mid laner Mi hai dato lei? Allora ti conquisi subito una virgola Sono Main Irelia Vai Sei Main Irelia, dipende un bel binding Questo è un coltello molto speciale E lo credo bene Questo è il nuovo Miracle Blade 3 Il primo della serie perfetta W Stanniggin Non ci credo 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 Meno male Meno male Meno male Meno male Meno male Meno male Sennò praticamente ce ne andavano tutti a casa Con sta merda Oh Ma giochi ad altra roba Oh 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 E sei gol 4 Fammi nel tuo PG Ok Gol 4, 73 LP Qualcuno qui ti accusa di essere smurf Dicono che nelle clip avevi un altro nickname Facciamo uno contro uno Se mi batti ti do il golden buzz Ok, ok, ok Challenge accept No 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 Allora Partiamo da un presupposto Certo A me piaci molto Devo solo sincerarmi che tu non sia platino e a quel punto ti posso scegliere Allora facciamo l'ultimo 1v1 Mundo Baron Pit Se vinci quello te lo faccio davvero No 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 GG King Purtroppo ti devo dire una roba un po' brutta Ok Mi hanno detto che in realtà tu sei uno smurf No E quindi non ti posso scegliere Come non sono smurf Allora dammi dammi veramente un minuto dammi un minuto che si decido Farò decidere alla chat Ok Va bene Mi sta a credere Valo Si salvi No 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 Flashback Allora ragazzi Sì ovviamente l'ha già vinto il Golden Buds Ma l'obiettivo qui è batterlo con Mundo Di Lo so che sia uno smurf e non posso prenderti mi dispiace Aspettare che lui si metta a piangere alla fine dire che è tutta una burla sei stato scelto End of flashback Allora Mattia Benvenuto a Borno alla Reborn Tu sarai il nuovo mid laner Get ready We are getting this time on Ok Grazie E ringrazio anche la chat Grazie a te King Ti avrei scelto lo stesso Grazie Ciao Stellina Ciao ciao Buona fortuna agli altri Tu te la sei conquistata Buona serata Paolo Ciao come ti chiami? Francesco Francesco a dove chiami? Napoli E che lo sei? Gold2 Però gioco da sei anni quindi vorrei uscire dal Gold Che volsine col suo è Chi è? Ciao scopazza Ciao Paolone Come ti chiami? Mi chiamo Samuele Samuele da dove chiami? Mi chiamo da Como Quel ramo di lago di Como Quanti? Chi l'ha scritto? Chi ha scritto quel ramo del lago di Como? Ehhh questa è una bella domanda quindi non ti so rispondere Il nome del libro come si chiama? E beh non mi conosci i promessi di sposi Allora posso anche tenere d'accordo Ah è vero Era l'incipio dei promessi di sposi si Cioè era? Lì i promessi di sposi Era dei promessi di sposi È vero Manzoni Vabbè Sì vabbè Vediamo queste clip Beh una team comp difficile da uccidere questa Questa roba che hai fatto è perfetta Tutto perfetto Molto bene No ma Ma devi stare zitto solo Buona anche questo Ok E qua questo te la prendi pure Ok ma questo Mi sembra un po' Mi sembra un po' Mi sembra un po' Un po' gigante voglio dirti una cosa grazie mille quando ho iniziato a giocare a lol da piccolo nel 2015 sono venuto a lucca e abbiamo beccato te e il dog dopo la finale dei mondiali per strada che tornavate a casa stanchissimi e ci avete fatto la foto lo stesso siete stati stra gentili e niente mi hai lasciato un bel ricordo polone grazie grazie a tutti